Francesco 4 e 0 anche te sei arrivato a 40 tanti auguri ciao ciao capitano siamo qui a festeggiare come da tanti anni questo ultimo compleanno però tu ancora ci sorprendi e ancora sorprenderemo tanti insieme perché abbiamo ancora tante battaglie da vincere tutti sanno il tuo valore da uomo da calciatore per me sei semplicemente Francesco, sei un grande compagno in tutto e per tutto ti voglio bene capitano, un abbraccio grande capitano auguri calcola che io ne ho 11 più di te quindi insomma a voi e poi se stai così se vediamo fra i nanti trent'anni dagli aggiù, forza rum ciao Francesco volevo unirmi anch'io ai tanti messaggi di auguri che ti sono arrivati e che ti stanno arrivando per il tuo compleanno un compleanno importante 40 anni entri a far parte del club degli Anta io ormai ci faccio parte da diversi anni è un club molto prestigioso e volevo darti il benvenuto e farti davvero tanti auguri sinceri auguri capitano capitano eccoti anche tu sulla soglia dei 40 tanti 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 auguri da un super tifoso sempre presente e qui c'è un altro amico che vuole farti gli auguri che è qui con me ciao Francesco anche se non sono anche se non sono della Roma comunque tra sportivi sei un grandissimo capitano un grande campione quindi auguri tanti auguri ciao 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 Francesco premesso che io di calcio non capisco molto ma ho guardato sulla gazzetta su wikipedia un po' dappertutto e c'è scritto da tutte le parti la stessa roba cioè che sei un grande però io sta roba qui la sapevo già sei davvero un grande 40 volte grande auguri Francesco qui dalla Spagna e qui stiamo da Valencia ti faccio tanti auguri buon compleanno per i tuoi 40 anni spero che tu arrivi a 41 come me e come fai dopo ogni gol forse perché vuoi un altro figlio quando lo chiederemo a Hillary buon compleanno capitano felicidades Francesco spero che disfrutesi i tu 40 cumpleaños che nos sigas facendo disfrutare a tutti con il tuo fútbol e per me ha sido un orgullo aver potuto giocare contro ti e bene e anche tenere la tua camiseta che me la cambiaste e bene è un placer aver potuto giocare contro ti e ti deseo lo migliore un abrazo Francesco voglio farti tanti auguri per i tuoi 40 anni anche se da lontano vedo che riesci ancora a fare gol e a divertirti che penso sia la cosa più importante niente ti auguro ancora tanti auguri e spero di riverti presto un abbraccio amico mio auguri siamo arrivati a 40 puoi giocare 5 anni è ancora facile per quello che stai dimostrando sono orgoglioso e contento di aver giocato con te e mi raccomando continua da spettacolo sei il numero 10 più forte della storia italiana un bacio ciao ciao capitano sei arrivato a 40 pure te stai invecchiando tanti cari auguri e un abbraccio da zucchina tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri capitano tanti auguri tanti auguri per me è un grande piacere poter fare questo video per te ho imparato tantissimo dentro il campo fuori il campo sei uno dei più grandi con chi ho giocato e per me rimarai sempre nel mio cuore un grande abbraccio che cosa che cosa parabéns per i tuoi 40 anni che tu hai molta salute molta felicità e siamo insieme tanti auguri che cosa è un'inter ma si è convinto a farti gli auguri francesco ciao francesco tanti auguri ti ammiro ti ammiro a lui non a me ti ammiro moltissimo anche se sono di una fazione nemica sei un'intelligenza superiore l'unico atleta che ha fatto di un gesto sportivo un gesto umanistico un gesto umanistico sei patrimonio dell'unesco tanti auguri tanti auguri caro francesco anche tu sei arrivato ai 40 anni e voglio farti non ti canto tanti auguri perché non le canto ma ti faccio una sorpresa ti voglio fare una sorpresa guarda un po' chi c'è con me guarda un po' guarda un po' auguri 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 francesco da francesco mille mille auguri 15 anni fa siamo andati a fare una vacanza insieme in Egitto e in quell'occasione tu hai fatto la tua prima immersione in mare ecco io penso che dipenda anche da da quel bagno in quelle acque miracolose del Sinai il fatto che tu abbia questa longevità atletica e calcistica straordinaria tantissimi auguri ciao francesco sono il pec ti voglio salutare fare tantissimi auguri perché bisogna arrivarci a 40 anni come lo stai facendo tu sicuramente una cosa escepzionale quindi un grande abbraccio qua dal mio Cile insieme alla Ema che è cresciuta tantissimo un abbraccio grande amico mio e niente ci vediamo presto auguri io sono ridotto così con Peppa Pig te hai 40 anni mi sembra ieri che eravamo due pischelli belli come il sole single comunque siamo agli sgoccioli e quindi questo è un traguardo per te abbastanza importante io non so mai che dire quando ci sono questi auguri social però ti faccio tanti auguri e niente ti voglio bene amico mio dopo questi quattro pallone d'oro ti faccio gli auguri anch'io però sono auguri di cuore tanti auguri fra gli stessi ciao ciao capitano volevo farti tantissimi auguri per i tuoi 40 anni è davvero un traguardo molto importante e credo che non sia da tutti arrivarci da da giocatore per cui volevo farti i miei complimenti soprattutto per la straordinaria carriera che hai fatto e per quello che continua ancora adesso a fare sul campo io sono veramente felice e onorato di poterti fare questi auguri anche da compagno di squadra e niente spero di esserlo anche nei prossimi anni ancora tantissimi auguri e un abbraccio grande un capitano c'è solo un capitano francese pure casa c'ho giallorossa grazie per le emozioni che mi hai regalato in questi anni grazie di cuore e tanti auguri auguri francesco sei un grande auguri con tutto il cuore vi vediamo a scuola ciao francese e niente avrò provato questo video cento volte una volta non mi piace la luce una volta non mi piace quello che ti dico ma come me tutti quanti perché escono di quei video bruttissimi però è un modo per starti vicino in un giorno speciale un abbraccio forte e tantissimi auguri ciao quarantenne buchi francesco qui da porto a leghe una giornata fantastica guarda con un sole fantastico anche perché noi qua stiamo entrando verso l'estate già si fa molto caldo ci voglio fare gli auguri di dare un un abbraccio e dire che la cosa più importante di questo momento è la salute e che tu possa avere sempre la salute e la pace è una cosa importante perché quando uno ha la salute e la pace le altre cose diventano sempre molto più facile da porto a leghe un abbraccio e bocca al lupo per quest'anno spero sempre che la nostra Roma possa fare un carpeonato benissimo e tu la possa guidare bene in questo in questo carpeonato ciao Francesco it's roger here happy 40th birthday as well for me from switzerland i wish you all the best have a huge huge party and I hope I see you in Rome again soon ciao 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 capitano tanti auguri felicitazioni ricublario te la passi bella ciao grande francesco stai rimanendo vecchio eh 40 cumpleiani auguri amico ciao francesco scusa che in 2000 ti ha rubato il pallone d'oro eh meritava ciao rico un abbraccio ok grazie passa pure la musica amici eccoci qua all'edicola per festeggiare un amico festeggiare un amico di tutti noi per festeggiare il calciatore per antonomasia e al di là del tifo al di là di qualsiasi fede calcistica si ama si ama francesco totti 40 anni oggi signori 40 anni 40 anni fa 40 anni fa adesso non vorrei essere blasfemo ma una stella cometa andava verso porta metronia tutti la guardarono via vetulonia via vetulonia 40 anni capitano 40 anni oggi che cosa si è regalato a francesco la pagina feste non parliamo mancare il gruppo dell'edicola fiore tanto molti quasi tutti romanisti ti dico solo che ci sono due laziali che si sono voluti un applauso al coro per gli applausi guarda capirai da solo di solo ci vedono subito allora vogliamo cantare tanti auguri a te banalmente non se lo meriterebbe una banalità però gliela facciamo guarda siamo pronti tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri francesco tanti auguri a te 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 ciao bravo ti aspettiamo eh una mattina che ti svegli presto non so quale però ciao 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 un capitano c'è solo un capitano un capitano c'è solo un capitano auguri francesco auguri francesco da francesco e massimiliano magni capitano tanti auguri tanti 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 auguri scusa il capello augurissimo veramente auguri auguri franceschino auguri ma che so 40 per te non so niente sei fatto de marmo papà e mamma t'hanno fatto de marmo tu sei tutto per sta città sta porra città guarda a sinistra e vede il buco e guarda a destra vedo la monnessa guardo di fronte a me vedo il grande Francesco che fa così progettiamo cupone tantissimi auguri con grande affetto dei tuoi 40 anni di là lo sanno tutti dei grandi giocatori immenso che sei ma sei un grandissimo uomo un abbraccio grande un grande affetto e augurone di nuovo ciao ha scritto un manuale sul calcio intitolato moglie faccio e il compiario Totti è lui signore il grande Francesco il grande Francesco che salutiamo perché oggi Conti è 40 anni è un grande affetto è una persona deliziosa veramente una brava persona mi auguro che uno come lui possa giocare a calcio fino a 50 ciao caro Francesco tanti auguri 40 anni sono niente sono 40 anni per uno sportivo sono tanti per un uomo sono niente ti ringrazio per tutti tutte le grandi emozioni che ci fai provare io ogni volta che prendi il pallone mi commuovo mia moglie mi prende in giro e io veramente continuo a farci se piani ancora finché puoi un grande abbraccio e tanti auguri ciao Francesco eccoci qua il giorno è arrivato fai 40 anni vabbè io sono 51 quindi voglio dire non credo sia un problema anzitutto auguri poi vabbè mi sono messo una delle 100 magliette come dire che porterò dovunque io viverò avrò nel mio armato e le magliette che parlano di te e della Roma dal 1993 giorno più giorno meno quando hai cominciato ad entrare nei nostri cuori per sempre ogni giorno di più il debuto la Serie A la Coppa Italia le prime partite i primi gol e poi insomma tutto quello che sai quindi non ti dirò giuro non ti tedierò con Igo Capitano il Pupone il Colosseo le cose via Vetuloni anche se io sono di Piazza Tuscolo e dai e questo e quello e le esultanze c'hai fatte i derby c'hai fatto Piai c'hai fatto io ti faccio gli auguri con tutto il cuore ma soprattutto voglio ringraziarti per una cosa ah se lo troverai vorrei ringraziarti per questa meravigliosa maglietta che è la tua Flavio e ringraziarti anche per questa altra perché insomma è sempre a Flavio ma per una cosa con tutto il cuore ripeto voglio farti gli auguri questa giornata bellissima per te che poi è solo una tappa e una ripartenza la famosa ripartenza del calcio 40 e domani si ricomincia non è che chissà che succede la cosa per cui ti voglio ringraziare è dal calcio ma fa parte della vita quella vera o forse le unisce le due cose il calcio e la vita quella vera vorrei mentre ti faccio gli auguri ringraziarti per la infinita straordinaria rarissima forse unica proprio gentilezza che tu hai avuto ogni volta che ci siamo incontrati vabbè si faccio la televisione quindi ci si saluta ma la tua cortesia la tua gentilezza al ristorante allo stadio o così in occasioni pubbliche è una merce rarissima per le persone famosissime ultra famose conosciute in tutto il mondo come te questa è la cosa che non ti ho mai detto e che in questa giornata così bella non ti cambia la vita ma come dire volevo dirti in maniera precisa grazie perché sei un uomo un ragazzo gentile auguri auguri ma con tutto il cuore ciao Francesco hola Francesco te quiero felicitar por tu cumpleaños 40 anni già tutto un idolo per tutti noi è una alegria ancora poter vedere e disfrutare nel campo mi ricorda quando ero quando ero più piccolo ho avevo la possibilità di essere in un altro lato con il Focoglub Basilea con 17 anni disfrutare di ti e bene lo unico che ti desidero è tutto la suerte di questo mondo molta salute molta fuerza e ojalá che 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 è una alegria verte nel campo muchas gracias un abrazo forte ciao capitano che dire una una carriera fantastica che continuo a sorprendere tutti 40 anni e non sentirli sei fortissimo ovviamente il fatto che tu ti chiami come me ti ha portato bene lo sai e che dire non smettere non smettere continua a giocare perché ti ho il fantacalcio e vinco tutti gli anni mi risolvi sempre le situazioni più difficili ti abbraccio forte ti voglio bene ovviamente ciao capitano ciao capitano tanti auguri tu sei un idolo per per tutti come come calzatore e come uomo è sempre una gioia per per stare in campo con te ogni allenamento ogni partita ti voglio bene e tanti auguri ciao ciao checo sono io coco come vedi sto qua in ritiro facendoti il video per il tuo compleanno ti volevo salutare ti volevo augurare il meglio per me è stato un piacere compartire due anni insieme a te dentro al campo sei un grandissimo giocatore tutti lo sanno ma sei anche più grande come persona che questo per me è la cosa più importante niente è già un po' di tempo che non ci vediamo tra un po' di vengono a a Trigoria quindi aspettami ti volevo salutare checo ciao un grande abbraccio francesco vai avanti a giocare fino a che ti diverti fai divertire alla gente così vai avanti è un piacere vederti tanti tanti auguri auguri capitano benvenuto nel mondo degli anta auguri al campione auguri al simbolo di roma e della roma auguri al patrimonio nazionale ma soprattutto auguri ad un uomo molto divertente e davvero speciale buon compleanno francesco ciao francesco ti volevo fare tanti auguri per i tuoi 40 50 60 quanti sono ormai però sei sempre in forma e mi fa molto piacere ti vedo sempre alla grande quindi ancora tanti auguri mi raccomando e sempre a tutto gas ciao francesco un capitano c'è solo un capitano un capitano c'è solo un capitano ciao francesco tanti auguri ciao pupone tu lo sai perché squadra tifo ma sono veramente felicissimo che ci siano dei fenomeni come te purtroppo non siete in tanti ad amare così tanto la propria città amare così tanto la propria maglia al punto di giocarci per tutta una vita a dare tutto quello che si può per la propria squadra che è la squadra del cuore che diventa anche la squadra della propria vita della propria professione e anche per il fatto che sei comunque un esempio come atleta perché lo stai facendo a vedere tutti quanti ti stimo tantissimo e ti auguro di essere felice ancora tra gli anni che ti restano a giocare e tra tutti gli anni dopo buon compleanno per i tuoi 40 ciao ciao grande francesco ti volevo fare tanti tanti auguri per i tuoi 40 anni è un traguardo importante tu ti stai ancora divertendo continua a farlo fin quando puoi e magari ci vediamo per la tua ultima partita quando sarà tra 4 o 5 anni ok un abbraccio grande da paolo ciao ciao auguri grande capitano crogna polà capitano nazisis nataikato stisis che è una pezza come polà crogna mazimas ciao francesco passano gli anni ma rimani sempre uno dei più grandi tanti auguri di vero cuore e ci sentiamo un abbraccio france che ti posso dire la prima cosa che ben arrivato nei quarantenni e ti dico che te ne accorgerai sono dolori perché da quando ho fatto con Altani da un paio di mesi sono usciti fuori i dolori come mai prima anche quando ho giocato tutte le domeniche poi dopo che da quando ho smesso da un paio di anni a sta parte l'unico che mi fa tornare la voglia di giocare sei tu vederti giocare in questo modo mi fa venire invidia positiva perché mi piacerebbe tornare a giocare e forse l'invidia perché non ho mai giocato tanto tempo con te forse qualche gol in più l'avrei fatto sicuramente e vedere come mi importa gli altri attaccanti un po' di invidia ce l'ho perché sei troppo forte e poi che ti posso dire la curia è quello che ma questo sono certo che non cambiare mai di non cambiare mai perché sei una persona unica speciale umile e te come tutta la tua tu come tutta la tua famiglia quindi lavoro più grande di rimanere così come sei ti facciamo tante gol io, Marisa le bambine perché è una tappa importante divertiti come stai facendo e poi per il futuro ci penserei un abbraccio grande Francia e auguri auguri Francesco auguri mio capitano un abbraccio e un bacio da Marco Gelini ti vogliamo bene tutti ti vogliamo bene tutti auguri perci un bel letto di mattoni a Francia di modo a 40 visto come dormono qua belli comodi fra decina di anni ti aspetto per l'ultimo anno qua bello tranquillo sereno tanti auguri buon compleanno Francesco tanti tanti auguri 40 anni sono una cosa seria tanti auguri e sempre meglio daglie daglie forza capitano volevo fare Francesco tutti i miei personali auguri per un un compleanno felice mi sembra veramente che siano 40 anni portati in maniera in maniera divina è così bravo questa è una casca gli occhiali auguri caro fratello Francesco e presso anche il mio nome e questo ha portato grande fortuna te porta anche tanta fortuna ciao Francesco tanti auguri per i tuoi 20 anni 20 anni 20 anni in euro delle vecchie lire sono 40 però sono 20 20 20 anni auguroni ciao per i tuoi 40 anni ti ha dato 40 anni di gioia ma si mette in testa che ce ne deve dare almeno altri 20 30 perché siamo contenti quando lui non entra in campo quindi lo aspettiamo ancora per 20 30 anni entrare in campo e segnare auguri Francesco ciao Francesco siamo Michele Andreozzi e Max Vado e anche se non siamo tifosi della Roma perché io tifo Napoli da quando sono nata io ho qualcos'altro che nemmeno ti dico ma niente comunque ti vogliamo fare gli auguri perché perché io ti ho comprato il fantacalcio e perché per me tu comunque sei l'imperatore di Roma ce la faccio dai ti prego fallo tanti auguri ma Francesco pure se noi a casa qua non siamo proprio tanto romanisti che volevano fare tanti auguri perché il segreto della Roma è Francesco ciao Keko probabilmente non potete capire questo che ho che ho direto ma puoi chiedere il tuo son tradizare per te quindi ti ho piacere il tuo 40 annacalcio ti ho piacere il prossimo anno per IS Roma e in l'ultima ti ho piacere 25 gols per IS Roma per puoi ripartare il record perché ti piacere che mi sembra di essere al top. Adien, tanti auguri capitano, ciao! Ciao vecchio, volevo farti tanti auguri per il tuo quarantesimo compleanno. Per me è un onore poter giocare con te e spero che comunque continuerà per qualche anno in più. E poi voglio fare una scommessa che io smetterò prima di te. Ciao grande! Ciao a tutti, qui è Nani. E volevo dare un felice compleanno. E grazie per tutto quello che hai fatto nel mondo del fútbol e la più grande persona che sei. Non ho una grande relazione conti, non ho conosciuto bene personalmente, ma quello che da niente ha mirato quando gioca e sempre che ti miro a giocare. è un esempio dentro del campo. E voglio dare le parabéns per tutto quello che hai fatto questi anni tutti. E molta felicità per te e per la tua famiglia. Un abrazo! Ti vorrò fare tanti auguri di un grande giocatore. Ciao capitano, ti faccio tanti auguri e spero che l'anno prossimo pota giocare con noi perché abbiamo bisogno di giocatori come te. Ciao Francesco! Ciao! Ciao Keco, tanti auguri! Speriamo di rivederti un altro anno con noi. Ciao grande! Francesco tanti auguri! Tanti auguri capitano! 40 anni! 40 anni veramente! L'andropausa sta battendo, sta bussando alla porta, toc toc! Eh si fratello caro! Sappiamo che Ilani ti ha regalato il catetere perché comunque sta arrivando. Non mica sul catetere, il pannolone, il pappagallo, la pala, tutto! Se devi fare il casting delle batanti sai che puoi contare su di noi. Come Xbox, ci mettiamo un giorno e le proviniamo. Te la scegliamo noi, Francesco non ti preoccupare, tu solo una chiamata devi fare. Tanti auguri capitano! Sei sempre il numero uno, Francesco! Sei l'ultimo grande capitano! Un bacio grande sei nel nostro cuore! Tanti auguri! Un capitano! C'è solo un capitano! Un capitano! C'era già arrivato il brodino! Ciao Francesco! Come stai? Ti voglio congratulare per il tuo 40 compleanno! Spero che sia un giorno molto felice e tutto il meglio per questa stagione! Un abbraccio! Tanti auguri anche da parte loro! Guarda Alda e Rivaldo! Auguri! Ciao Francesco! Auguri Francesco! Ciao Francesco! Sono i tuoi primi 40 anni! Sei la gioia di tutti noi! L'espressione del calcio! Quello giocato insomma! È un piacere sempre vederti giocare! Il libro come ho sempre detto non va chiuso perché veramente può dare ancora tanto! Quindi prima di chiudere questo libro devi scrivere ancora tante pagine! Quindi tanti auguri e continuo così! Ti voglio bene! Un bacio! Altro pallone d'oro che ti vuole fare gli auguri! Tanti auguri! Francesco! 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 Buon compleanno al capitano dei capitani! Ma lasciamelo dire soprattutto al collega giudice! Perché questo non va dimenticato! Francesco! Buon compleanno! Io li ho compiuti parecchio tempo fa quegli anni lì! E devo dirti che guarda come sono in forma! Quindi tu figura! Ti ne hai di tempo! Capitano! Auguri! Buono! Questo è un tempo che è qua e sei da lì! auguri! Auguri Francesco! Auguri per i tuoi 40 anni! Sinceri dal profondo del cuore! Io ti ho comprato la DeLorean! La macchina del tempo! Così potrai scegliere quello che fare! Se tornare indietro! Se andare nel futuro! Tutto quello che tu desideri per me! La tua maglia è il numero 10 lo so! Però per ora siamo fermi al 9,9! 9,9 perché sei stato uno splendido e sei uno splendido quando ho bisogno falso 9! Con me su 167 partite hai segnato mi hai fatto gioire per 99 volte! Io ti do come voto 9,9! Ci manca quel pezzettino lì! Manca quel gol lì per arrivare poi insieme al 100 e al 10 come voto! Vediamo di farlo prima possibile! Siccome è la tua festa però poi io volevo pensare anche alla tua splendida signora e ho comprato un piccolo pensiero anche per lei che è un vecchissimo pezzo di mia Martini un grandissimo successo al quale io ero molto attaccato e lei mi ha ricordato e mi ha dato una grandissima gioia! Mia Martini, piccolo uomo! Questo per Ilari, questo per Francesco! Auguri! C'è una persona che ti vuole fare gli auguri! Francesco Sio Cristo Stoichkov! Feliz cumpleaños in spagnolo! Bocca al lupo sei grande come sempre! Un forte abbraccio a Cina, di Bulgaria, di Spagna e d'Italia! Un forte abbraccio! Ciao Francesco! Grande braccia auguri! Auguri! Buon cumpleaños! Ciao auguri! Forza Roma! Ciao! Ciao Capitano! Tanti auguri per il tuo compleanno! Un Capitano! C'è solo un Capitano! Un Capitano! C'è solo un Capitano! Grande Checco! Io sono l'unico che sa perché tu quando segni fai così! Sono l'unico che lo sa! Va bene! L'unico! Insieme a te! Auguri Francesco! Auguri Checco! Auguri Sghi! Auguri Capitano! Ti vogliamo tutti bene! Un abbraccio! Feliz cumpleaños Francesco! Auguri Fenomeno per i tuoi 40 anni! Anche se non abbiamo mai giocato insieme! Ah! Ah non è che auguri per Roma! Ah no! Ah! Totti! Ciao Stella! Auguri eh! Ti aspetto! Hai sei figli ovviamente! Ciao! So this is Usain Boat! Totti! Io solo voglio ti raccontare un felicità di una legenda a un'altra! È un'onore! Quando io metto in Londra è un'onore! Quindi... Stai a... Stai a... Stai a... Stai a... Stai a... Stai a... Francuzzo! Anche tu ne ghianta! Eh? Auguri! Un compleanno! Oh! Sto davanti albergo più bello del mondo eh! E faccio auguri al calciatore più forte e più grande del mondo! Tante belle cose! Un abbraccio Francia! Minca mi potevo presentare con Peppa Pig come De Rossi eh! Un abbraccio frate! Ciao Francia! Che te? Sei arrivato a 40 anni! Sai che per tutti quelli che amiamo il calcio è un piacere vederti in campo e fare tutto quello che sai fare col pallone! Aspetto domenica per darti un forte abbraccio e per salutarti! Ti voglio bene! Che! 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 Grazie a tutti.